bello a tutti ragazzi con gian giovanni con tommaso oggi vi farò vedere un posto veramente ma veramente schifoso cioè guardate che brutto se guardate guardate il cielo che schifo guarda qua il paesaggio distrutto dai dai uomini guarda quanto è brutto è brutto è come brutto come brutto come le facce dei miei iscritti